Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi, la scelta giusta è l'app Mr. Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le candelette BOLC usate in questo video solo sul sito Mr. Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Togli la copertura del motore. Ti consigliamo, per sicurezza, di scollegare la batteria. Usa una chiave a bussola con inserto da 10 per svitare il morsetto del polo negativo. Poi rimuovilo. Usa un cacciavite piatto per liberare i cavi dalle loro guide. Usa una pinza a becchi per staccare l'antiparassitario dalla candeletta. Trucco! Ti consigliamo di usare un tubo di plastica sotile attaccato a un aspiratore per pulire bene attorno all'alloggio della candeletta. È importante sapere che le candelette sono estremamente delicate. È molto frequente che si rompano quando le si smonta, specialmente se non sono mai state cambiate. Romperle è un bel problema, perché la punta rimane bloccata nella testata. Se decidi di cambiarle, ecco un po' di trucchi per avere maggiori probabilità di successo. Qualche giorno prima dell'operazione, applica dello sbloccante sulla base delle candelette. Rimuovi le candele a motore ancora caldo e spruzzaci del ghiaccio spray per rimuovere la candeletta e possibilmente staccarla. Usa una chiave a bussola con prolunga e inserto da 10 per svitare lentamente la candeletta. Prima di montare la nuova candeletta, pulisci attorno al suo alloggio. Puoi sostenereci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Trovi i pezzi e i prodotti bulk utilizzati nel video sul sito di Mr. Auto e nel link nella descrizione. Prendi la nuova candeletta. Posiziona la candeletta. E leggi sulla confezione qual è la coppia di serraggio raccomandata. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Rimonta l'antiparassitario. Riaggancia i cavi. Riconnetti la batteria. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e suscriviti al canale. Pervi Radio. 1 Grazie a tutti. Grazie a tutti.